buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz benvenuti al webinar del lunedì con me collegato c'è il mitico Marco di Vita Marco ci sei? sì ci sono buonasera a tutti un caloroso benvenuto anche da parte mia ecco sai perché sono contento che tu sia presente oggi perché ho visto gli ultimi articoli sono tutti sul Forecaster sia su SD CAD che su SP500 e quindi insomma me li devi commentare perché comunque immagino che sia Jonathan che Federico siano persone che hanno seguito il tuo corso perché da come vedo insomma i disegni sul grafico queste cose insomma mi sa che sono tutte persone che hanno seguito il tuo corso tra l'altro se sono collegati appunto gli autori di questi articoli insomma magari dateci un fischio che così vi commentiamo insieme quindi partiamo subito con l'SP500 e Jonathan è collegato vediamo se è collegato anche Federico bene allora SP500 vediamo questa analisi test e spalle più Forecaster osservando il grafico dell'SP500 ho notato la formazione di un test e spalle che potrebbe preannunciare l'inversione di un trend sono andato poi sul nostro amato Forecaster e ho notato una certa somiglianza pertanto ho fatto le seguenti considerazioni innanzitutto tu Marco sull'SP500 andiamo a prendere il grafico per vederlo bene non scende questo 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 momento cosa dice la stagionalità la stagionalità dice che sarebbe dovuto iniziare avrebbe dovuto toccare quasi 2200 punti e da lì non sarebbe più dovuto tornare in quelle zone noi se non sbaglio siamo arrivati cioè noi l'indice se non sbaglio è arrivato a 2194 più o meno circa ah ecco esatto io prevedevo appena sotto i 2200 eri l'unico era un rialzo in quel periodo lì giusto ti ricordi? eh sì esatto è vero è vero è vero ero proprio l'unico ed è arrivato neanche a farlo apposta proprio lì è arrivato proprio lì e per ora come previsione non siamo messi male perché io comunque prevedevo un ribasso a partire dal dal ribasso dovrebbe cominciare dalla metà di agosto circa poiché avevo previsto una traslazione temporale di una quindicina di giorni cioè invece di svolgersi durante tutto il mese di agosto iniziare alla metà di agosto e finire verso la metà di settembre e staremo a vedere staremo a vedere perché è in ritardo di una settimana c'è da dire nel frattempo visto che ci sono diverse persone nuove che mi chiedono che cos'è il forecaster io nella chat vi mando il link del sito forecaster.biz quindi è questo sito che vedete in questo momento e le previsioni appunto che vedete sul sito e quelle che appunto sta facendo Marco sono appunto fatte con il software quindi poi voi andando sul sito trovate tutte le varie informazioni e poi vedete il vedete appunto quella che è la previsione io da profano che appunto da profano provo a fare una previsione senza andare a spostare avanti e indietro le varie tempistiche proviamo a vedere che cosa dice la stagionalità cosa è successo negli ultimi questo è dal 22 di agosto quindi da oggi di fatto fino a il primo di ottobre sembrerebbe che ci sia un picco superiore ancora prima di una discesa o l'abbiamo già racconto Marco? noi siamo ancora noi dovremmo essere dentro quella discesa che vediamo lì chiaramente tu avendo fatto dal 22 cioè da oggi dovresti andare leggermente indietro per poter poi vedere realmente da dove parte la discesa ma lei dirà cambia? cambia? cambia col sito? cambia un pochino però bene o male è uguale adesso chiaramente questa qua è anche una previsione di veramente di breve periodo se noi dovessimo andare a vedere più indietro nel tempo come data di inizio previsione vediamo che praticamente sono 20 anni 25 anni che il SP500 da inizio anno praticamente sale e poi di questi periodi inizia a scendere proprio veramente questo è palese se allunghiamo indietro la previsione quindi tu dici che questo è proprio il momento in cui diciamo tendenzialmente inizia lo storno giusto? lo vediamo qui se dovessimo cambiare anche gli stori il discorso non cambia siamo sempre lì c'è poco da fare diciamo che negli ultimi 10 anni è interessante questo grafico perché vedete ci dà una fase rialzista nonostante si comprenda e sia importante tutta quella fase che c'è stata in seguito al 2008 2009 quindi tutto il periodo legato alla crisi con i grossi ribassi nonostante quello comunque la stagionalità nella prima parte dell'anno è tendenzialmente positiva quindi insomma SP500 tra l'altro appunto ci sono un po' di complimenti per te appunto anche Riccardo che saluto e dopo parleremo anche di lui dice che il software è indispensabile ma insieme al corso che hai fatto tu che peraltro appunto adesso non è in programma Marco no non ancora ci prometti che lo farai un nuovo corso? no no lo facciamo chiaramente è giusto dare la possibilità a tutti di poter guidare la Ferrari con il corso di guida sportiva naturalmente con il corso di guida sportiva chiaramente le prestazioni aumentano bene 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 no ma so che c'è tantissima tantissime persone appunto che lo hanno seguito e che ti seguono anche nella sessione del martedì quindi ricordiamo una cosa a tutti domani ci sarà la sessione con Marco quindi andando su calendario eventi Forecaster più Sherry System Live quindi chi volesse partecipare insomma se avete seguito il corso di Marco e avete appunto il software Forecaster potete partecipare gratuitamente se no appunto potete pagare la cifra di solo i 49 euro poi tra l'altro domani siccome l'ultima sessione l'abbiamo saltata perché c'erano le vacanze quindi domani si riprende alla grande proprio domani si faranno le previsioni martellare pam 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 euro dollaro c'è questa possibilità c'è questa visione ok dove entriamo cosa facciamo 1.14 mi offrezziamo l'ordine proprio domani sarà una sessione molto operativa più operativa del solito ok quindi Marco ci sono tante domande da parte appunto delle persone su euro dollaro nel frattempo io saluto anche l'amico Giuseppe di Vision Forex e quindi gli do il che quindi ci segue calorosamente quindi gli do un caro saluto che un po' che non lo sento e niente allora per Lorenzo invece ma perché chi ha fatto il corso deve ripagare no chi ha fatto il corso è una licenza attiva del software Forecaster è gratuito per lui quindi Lorenzo tu dovresti averlo gratuitamente allora andiamo avanti euro dollaro ci sono un po' di domande su questo cross vediamo un po' cosa ne dici tu perché noi abbiamo dato un segnale operativo questa mattina a livello di 1.13.12 siamo a 1.13.17 quindi sostanzialmente siamo in un'area di sostanzialmente siamo lì siamo in perdita di 5 pip lo stop è in area 1.13.82 il target è molto più in basso rapporto rischio rendimento oltre 1 a 3 ti dico la verità visto così mi piace un po' di meno questo livello di ingresso si poteva forse entrare anche un attimino meglio detto questo tu cosa sei impostato per un rialzo per un ribasso quindi qual è l'acqua? allora io sono ero già entrato un po' prima ne parlavo appunto con Luca qualche giorno fa e gli ho detto Luca guarda io sono già entrato su 1.13 non ricordo il preciso 13.30 mi sembra 13.20 mi ero già messo short perché avevo visto appunto sul Forecaster che praticamente a parte la candela ribassista della Brexit con il con il listo di 5 anni sul Forecaster ora veramente l'andamento della previsione del Forecaster rispetto a quello dei grafici sono veramente identici veramente veramente una cosa impressionante quindi fammi capire come setti quindi tu fai euro dollaro vai a settarlo su un periodo possiamo andare sì possiamo andare indietro di un mese da adesso ad esempio andiamo dal primo di agosto tipo a che cosa lo mettiamo al 15 settembre per non andare troppo avanti perché giustamente chi poi acquista il software ha insomma diritto ad avere tutta la previsione andiamo a vedere circa una ventina di giorni questa è la linea del presente indicativamente quindi potrebbe esserci ancora un rimbalzino e poi dovrebbe scendere un po' storno esatto e poi poi si dovrebbe scendere sì 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 concordo concordo pienamente che avevo fatto solitamente non faccio delle previsioni di così brevi termini perché quello che interessa a noi nel forecaster che poi è quello che ci fa fare i soldi è individuare i trend non so i trend quelli che vanno sui tre mesi sui quattro mesi anche a volte addirittura anche sui sei mesi seguire il trend e ogni volta guardando i movimenti del forecaster incrementare seguendo con l'analisi tecnica eccetera eccetera perché io lo dico sempre che una volta individuato il trend quasi sempre il forecaster dal punto in cui il trend parte a dove deve arrivare ci arriva l'unica differenza è che le cose internamente al trend possono cambiare veramente in maniera che a volte è abbastanza significativa quindi io sono uno che andare a cercare il dettaglio sulla previsione giornaliera no non mi piace molto non l'ho mai fatto non è ribassista sostanzialmente comunque non è ribassista però ti dirò sono entrato con un con un quello che si dice si sa dire un lugarmente cipino un mini contratto a 1.13 qualcosa mi sono detto ok se scende diretto da qui prendo comunque con un po' di soldini se fa quelle tre o quattro figure se o due o tre quelle che saranno però ho piazzato comunque a 1.14 un ordine pendente un po' più un po' più consistente un po' più grosso perché c'era la possibilità anche che potesse arrivare certo a 1.14 infatti Nicola ci dice che lui è long fino a 1.14 20 poi da 1.14 20 lui si riposiziona short è corretto secondo me in tutta quest'area che va da 1.13 20 a 1.14 20 tutti i livelli secondo me sono buoni per shortare dal punto di vista macro Marco ti dico adesso ci sarà il meeting di Jackson Hall la Fed è brava dal punto di vista della comunicazione cioè tendenzialmente loro cercano di preparare il mercato con delle dichiarazioni ce ne sono state alcune nelle settimane scorse la settimana scorsa dove la Fed diceva beh ma comunque un rialzo entro la fine dell'anno ci sarà lì bisogna studiare molto bene qual è la politica diciamo comunicativa da parte della Fed se cercate me quindi se andate a cercare il mio profilo penso che si faccia così dovreste trovare un articolo adesso provo a cercarlo proprio sulla sulla Fed e i possibili rialzi io non escludo che il rialzo da parte della Fed appunto sui rialzi sui tassi di interesse possa avvenire già a settembre e ecco era questo qua l'articolo perché il dato di questa sera è importante andatevelo a leggere perché secondo me è interessante quindi vi da un pochettino l'idea di quello che potrebbe succedere quindi stanno iniziando a dare delle informazioni stanno cercando di preparare il mercato potrebbe già essere a settembre sicuramente sarà a dicembre escludo invece nella riunione di mezzo proprio a cavallo delle elezioni presidenziali bene quindi euro dollaro a attendere un pochettino ma comunque l'impostazione ribassista dico la mia su questo cross a Bivera che vi abbiamo dato il segnale operativo secondo me non è particolarmente esaltante questo segnale operativo quindi io devo dire la mia io lo sposterei il livello di stop molto più vicino e poi se scendere anche qualche pip lo chiuderei anche per posizionarmi ancora più in alto quindi in area 1.13.50 per cui magari mettere degli stop per riposizionarsi più in alto quindi secondo me uno movimento a rialzo piccolino potrebbe farlo e quindi risparmiamo ancora qualcosa l'idea comunque è di posizionarsi nel medio e lungo termine al ribasso per Andrea che mi chiede un ulteriore l'ingresso intelligente secondo me questo può essere un buon livello 1.13.50 per ricominciare a riposizionarsi al ribasso allora già che c'è collegato Riccardo ci dice 1.14 Davide dice 1.14 Salvatore 1.14 sono tutti livelli buoni l'idea l'idea guardate così se voi lo andate a vedere così il grafico guardate che cosa sta succedendo se noi andiamo a prendere cerchiamo di andare a circoscrivere più o meno il movimento di questo trading range diciamo valutiamo dove è stato per più tempo come se tirassimo delle sorte di rette di regressione bene o male si muove tra questo livello di 0.8 e di 14 siamo nella fase alta di un movimento laterale quindi è possibile che ci siano degli spike al rialzo però comunque tendenzialmente all'interno di questo movimento laterale dovrebbe muoversi vendere sui massimi che dovrebbe essere corretto e comprare sui minimi che sono tendenzialmente in queste aree qua magari lavorandoci un po' dentro con più posizioni quindi questa è un po' la mia idea allora andiamo avanti perché abbiamo tantissime cose da vedere perché ci sono state diverse domande da parte delle persone che ci seguono soprattutto sul corso di Riccardo allora Riccardo lo inviteremo nelle prossime sessioni però trovate tutte le informazioni qui trading con Ichimoku corso completo sarà il 7 di settembre alle ore 18 sarà un corso assolutamente da non perdere visto che il primo corso di Riccardo è in promozione a soli 99 euro acquistandolo più tardi costerà 299 euro quindi dopo il 7 di settembre quindi anche una promozione abbiamo ancora qualche posto disponibile Riccardo insieme a Luca di Scacciati ci racconteranno un pochettino come utilizzare Ichimoku con diciamo delle tecniche di trading diverse insomma una rivisitazione di questo indicatore bene allora io andrei dimmi tra l'altro riguardo al corso di Riccardo proprio a Ichimoku ci ritenevo a raccontare un aneddoto praticamente è successo tempo fa una persona mia aveva contattato dicendomi guarda io uso un sistema con l'indicatore Ichimoku che ho modificato io con un algoritmo interno e funziona lo sto testando da molto tempo da un paio di anni che lo testo funziona eccetera eccetera ti faccio vedere i risultati effettivamente i risultati erano validi poi ho avuto un sacco di impegni la cosa si è persa un po' non abbiamo combinato nulla però adesso a distanza di tempo Riccardo mi arriva con l'indicatore Ichimoku dicendo io ho questo indicatore modificato da me non è con i setaggi standard modificato da me i risultati però li ha pubblicati sono dei dei risultati io questo lo vedo come un po' un segno del destino se vuoi vedere il corso di Riccardo gratis guarda che te lo facciamo pagare Riccardo glielo devi regalare tu no adesso a parte gli scherzi quindi andiamo no no a parte gli scherzi per Armando che chiede se verrà registrato certo se non potrete reseguirlo in fase diciamo durante la fase diciamo di presentazione diciamo durante l'orario normale verrà assolutamente registrato e quindi poi si potrà fermare il prezzo e ricevere la registrazione allora andiamo avanti Fuzi Mib Fuzi Mib ci sono tantissime domande su questo indice io cavolo veramente lo sto soffrendo questo questo indice ho fatto qualche short qualche cosa però non scende io mi aspettavo un ritorno piuttosto rapido in area 16.000 e invece niente non sembra volerci andare tu cosa cosa ne pensi beh guarda se dovessimo mettere un grafico giornaliero sul nostro indice se dovessimo guardare la candela di oggi è la candela vedi ecco adesso andiamo questa è la classica candela di incertezza giusto? esatto sì perché i prezzi hanno provato a risalire con forza eccetera eccetera vedi appena si sono avvicinati la media mobile i prezzi sono subito tornati indietro per me c'è più un'indicazione di debolezza che un'indicazione di forza negli ultimi movimenti dell'Italy questo è quello che è successo nella giornata di oggi veramente interessante tra l'altro chi ha visto la video analisi noi indicavamo dei livelli interessanti intorno ad area 16.500 in realtà non ci è arrivato peccato perché veramente ha fatto questo movimento per poi tornare al ribasso non so quanti di voi abbiano preso posizione però sicuramente è un'ottima era un'ottima cosa anch'io ci vedo debolezza onestamente lo vedo tra gli indici più deboli in assoluto peccato non essere stati capaci di posizionarci in realtà io qualcosa ho vedi che qualche fib ce l'ho su questo strumento da 16.700 al ribasso però purtroppo nei segnali operativi noi non non lo abbiamo non lo abbiamo mandato niente allora andiamo avanti con quella che è la la nostra analisi perché voglio farti vedere voglio farti commentare altri strumenti operativi innanzitutto usd cad appunto visto che c'è l'amico jonathan collegato queste sono le classiche previsioni insomma che fai tu che fai vedere appunto con l'accavallamento del diciamo o meglio metti vicino il grafico del forecaster il grafico questo è un grafico di una piattaforma usd cad cosa mi dici ci sono delle opportunità da cogliere allora su usd cad siamo stati se io che Luca siamo stati un po' fessi perché non ho messo in pratica quelli che poi sono gli insegnamenti che do al corso perché noi ci aspettavamo un rialzo ok è vero che la candelona rialzista c'era stata però sulla previsione del forecaster si vedeva chiaramente che era imminente poi un ribasso un bel ribasso corposo e quando è vicino un ribasso non si cerca mai di andare a prendere posizione al rialzo perché potrebbe essere che lo strumento in questione anticipi il ribasso di conseguenza se tu sei posizionato al rialzo prendi lo stop loss e oltretutto ti perdi anche il movimento al ribasso noi quello che avremmo dovuto fare sarebbe stato meglio aspettare un movimento al rialzo e poi da 1,32 o 100 non ricordo più come è quotato da 1,32 avremmo dovuto cercare di prendere lo short secondo me sarebbe stato meglio perché adesso cosa succede? ma allora teoricamente abbiamo visto che il petrolio sappiamo questo indice e questo strumento essere fortemente correlato al petrolio se il petrolio dovesse scendere questo sarà di rampa ecco io una situazione come quella che hai disegnato tu mi piace se devo essere sincero perché secondo me il petrolio scenderà però non scenderà non scenderà tantissimo guarda esatto io la vedo vedo queste aree qua di diciamo dove i prezzi si sono fermati diverse volte ci sono state delle ombre importanti e poi i prezzi sono andati leggermente sopra al livello di 1,30 che è un livello secondo me è chiave su questo particolare cross da lì si può valutare delle operazioni a ribasso se la rottura dovesse essere piuttosto forte quindi con una candela tipo questa però verde al rialzo basterebbe attendere uno o due giorni uno o due giorni diciamo di diciamo dove si vede un minimo di inversione di tendenza quindi magari una candela verde una candela fatta in questo modo e poi un'ulteriore candela rosa ecco sulla candela fatta in questo modo si potrebbe iniziare a posizionarsi a ribasso ecco e il vediamo le altre persone Jonathan dice io lo vedo rimbalzare tra 1,30 e 1,30 e 50 anche se 1,30 e 0,5 come livello sembra carino considerate che indicativamente potete fare un ingresso a livelli quindi magari due mini lotti a livello di 1,30 e 0,5 magari altri due mini lotti sul livello di 1,30 e 50 o 1,1 insomma quindi la verità è che però se poi andate a guardare nel lungo termine anche questo cross si è un pochettino smorzato nell'operatività nel senso che c'era stata tanta tanta violenza nel rialzo quando le quotazioni del petrolio erano andate al minimo e poi da qualche tempo sembra che si stia iniziando a comportare come euro-dollaro quindi abbastanza piatto come movimento di conseguenza l'idea è che un ritorno su dei livelli interessanti appunto al rialzo potrebbe dar nuove spinte ribassiste al momento a livello di analisi tecnica non ci sono dei trend ben definiti perché se andiamo a tracciare anche delle trend line indicativamente ci rendiamo conto che le uniche trend line buone sono queste qui e quindi in realtà sono rotte quindi in realtà gli short andrebbero fatti un pochettino più in alto 1,30 è basso come cosa vediamo se ci sono delle trend line che vengono confermate diciamo dove ci sono minimi inferiori non ci sono minimi inferiori quindi alla fine qua va va shortato su va shortato su livelli più alti quindi io lo guarderei sopra 1,30 iniziamo a pensarci e magari qualcuno fa un articolo su questo allora vediamo un pochettino Nicola dice secondo me per qualche giorno andrà a laterale il prezzo e poi probabilmente continuerà lo short secondo me potrebbe salire ancora qualcosina prima di riposizionarci il short però ovviamente sono tutte opinioni Riccardo ci dice che invece poi farà un bel articolo quindi mi raccomando rimanete collegati sul sito e se è un articolo vi piace condividetelo sui social o dove vi pare dove dice che grazie al Forecaster Roma Report quindi il report appunto sul Forecaster è riuscito a fare un bellissimo ingresso da 10.800 sul DAX e un'uscita 10.550 grazie proprio all'Hichimoku quindi per chi comunque Forecaster Report è piaciuto tantissimo come come cosa ve lo faccio vedere vedete è una cosa diciamo di questo tipo questa è una delle pagine vedete visione generale su Audi usd insomma avete tutte le varie le varie cose sono 45 pagine di di previsioni insomma chi fosse interessato può tranquillamente mandare una mail a info chiocciola investire punto biz anche Riccardo dice fatto molto bene insomma chi fosse interessato lo può tranquillamente richiedere allora andiamo avanti dunque allora infatti la trendline Nicola Simone dice rotto il triangolo che si era formato sul grafico daily niente comunque siete tutti concordi sull'andare short di usd cad bene vediamo sull'oro che cosa ci sono un po' di domande sull'oro vediamo che cosa che cosa mi dici tu sull'oro l'oro è una commodity se non sbaglio dovrebbe risentire in maniera particolare della stagionalità no? le commodity tu cosa mi dici? allora io sono entrato penso bene sull'oro questa mattina quando l'ho visto a 1333 ho detto cavolo però non mi aspettavo questo quindi arriasso così siamo sì perché siamo in stagionalità rialzista su questo su questo strumento magari non andrà a 1400 e 1450 nel breve però secondo me un 30 punti abbastanza velocemente al rialzo potrebbe farli potrebbe benissimo farli me lo auguro perché stamattina almeno poi anche vedendo la candela la candela di oggi i prezzi che vanno giù poi ritornano su verso fine giornata è chiaramente una candela rialzista dunque tu qui hai dal primo agosto al 15 di settembre come vediamo è impostato al rialzo fino a fino a quasi a metà a settembre e chiaramente noi sappiamo ci sono chi ha fatto il corso con me sa che ci sono delle varie trasazioni temporali eccetera eccetera ecco io quando ho aperto il grafico questa mattina ho pensato di essere su quel minimo proprio lì in centro esatto quello lì e quindi probabilmente dovrebbe esserci ancora una bella spinta al rialzo ti faccio notare questa cosa vedi questi valori percentuali sono piuttosto pronunciati rispetto al solito e su un grafico a 10 anni quindi comunque considera una media fatta su una base di 10 periodi quindi c'è il 2000 e 6 7 8 9 10 fino al 15 una variazione di questo tipo è una variazione significativa circa del 3% dai livelli di minimo anche di più esatto se la variazione media questa è proprio una roba di matematica di statistica se la variazione media considerando 10 periodi è da 1,20 a 3,60 quindi è circa un 2,40% e si sta parlando di media vuol dire che possiamo aspettarci una fase positiva a una variazione del mercato probabilmente intorno al 4% più o meno 3,6 3,7 cosa vuol dire che se il gold va su del 3,7% aspetta che tolgo devo togliere i disegni dunque sono dunque sono gold eccolo qua del 3,7% insomma sono non è poco sono sono bei soldini perché sono esattamente adesso ci vorrebbe una calcolatrice però insomma il 3% insomma il 10% su 130 punti sono 40 punti più o meno quindi 40 punti vuol dire tra 1,340 1,380 nuovo massimo sostanzialmente quindi se guarda che bella la candelina di oggi con l'ombra sotto i prezzi di fine giornata che tornano su poi ha rimbalzato proprio su dei minimi precedenti mi piace la candela di oggi speriamo di vedere ecco devi ritornare i prezzi nell'area che hai disegnato tu adesso e allora se il forecaster ha ragione io mi aspetto un movimento che è superiore ai 40 dollari e quindi vuol dire che arriva tra 3,80 e 3,85 indicativamente io qui ti sto parlando a livello statistico sai che io non sono un tecnico di quella che è la tua strategia però io ti dico guardando i numeri guardando quello che poi è l'essenza del forecaster non è una cosa così assurda che vada qua cioè dal punto di vista grafico c'è un massimo e va a fare un massimo superiore se il trend è rialzista ci aspettiamo un massimo superiore quindi alla fine ci sta come cosa e quindi le borse scendono teoricamente dovrebbe esserci questa correlazione esatto in realtà io cerco di smentire tutti su questa cosa perché tutti dicono ah ma c'è la correlazione le borse scendono il mercato il mercato sale cioè scusate l'oro sale le borse scendono e viceversa balle perché questo qua è il grafico dell'oro che se noi andiamo a prendere magari gli ultimi l'ultimo periodo insomma da 2016 oggi è salito in maniera significativa quindi è salito da 1060 a 1339 che circa un 30% adesso non c'è sotto mano una calcolatrice però comunque è tanto a me non sembra che l'SP500 sia sceso del 30% da inizio anno se andiamo a prendere l'SP500 prendete lì con le se volete i calcoli precisi fateli con la calcolatrice però io sto andando a spanne e però se noi andiamo a vedere la correlazione con questo con questo strumento non c'è da inizio 2016 sì è vero c'è stato prima un ribasso però poi l'indice ha cominciato a salire quindi in realtà correlazione si è persa in questo senso e la prossima correlazione che si perderà è proprio quella tra Euro-Dollaro secondo me e gli indici cioè gli indici inizieranno a scendere Euro-Dollaro oppure anche la Germania bene invece visto che abbiamo visto diverse valute che sono state richieste dagli utenti tu c'è una valuta in particolare che ti piace o te la posso domandare io uno studio no no chiedimi chiedimi pure tu allora io sono io sono in crisi su questo cross qui che è dollaro yen allora adesso voglio anche far partecipare un po' tutte le persone che tra l'altro ringrazio perché siamo oltre 200 rotte persone collegate al 23 di agosto e quindi è un è un'ottima è un'ottima notizia sono contentissimo per questa cosa ma voglio voglio capire cosa ne pensiamo tutti quanti di dollaro yen tu personalmente cosa pensi? ma allora io penso che dunque lo yen dovrebbe ancora rafforzarsi secondo me secondo me di conseguenza il il cross dovrebbe scendere ma attenzione perché c'è anche il discorso fed eccetera eccetera questo è il cross più difficile di tutti esatto questo è il cross più difficile di tutti è il motivo per il quale lo voglio tradare perché mi voglio complicare la vita dimmi tu tu vai avanti nel frattempo come dicevi tu appunto prima quando parlavi di fed gli americani sono sono furbi sono furbi perché loro cominciano già un po' a preparare il terreno per un eventuale rialzo in modo che il mercato inizi già magari a scontare un po' piano piano eh sui cambi quello che è l'effetto di un rialzo dei tassi in modo poi non avere lo shock lo shock potente quando il rialzo dei tassi l'annuncio ci sarà ci sarà davvero in questo gli americani sono sono veramente bravi quindi ci troviamo con uno che dovrebbe rafforzarsi il dollaro anche io vedo questo cross magari risalire un pochino ritracciare un po' verso l'alto magari perché le borse non scendono ancora violentemente il dollaro comincia a rafforzarsi un pochino però poi una volta scontata l'idea dei tassi secondo me qua si va si va ancora giù secondo me si va ancora giù allora per quest'anno la la bank of japan di buttare giù la moneta in una situazione del genere non ne vuole sapere e hanno ragione perché non avrebbe nessun senso di conseguenza secondo me lo yen è ancora la possibilità di rafforzarsi un po' tra la fine dell'anno ti dico cosa ne penso io allora primo pensiero allora primo pensiero è questo allora innanzitutto il trend è ribassista non c'è dubbio e i minimi sono via via decrescenti abbiamo tracciato quale che sono le trend line più significative dell'ultimo periodo e sostanzialmente sono uguali quindi se uno vuole lavorare con buoni rapporti rischio rendimento short indicativamente dal livello di 104 quindi voglio andare in favore di trend strategia trend following vado short da 1 da 104 al momento andare short è stupido perché siamo sotto le rotture dei minimi precedenti quindi non si va short da qua ma andare long si va contrario a quello che è quello che ci sta facendo vedere il mercato in questo momento quindi diciamo questa è un po' la diciamo l'idea detto questo io sono rialzista di dollaro e l'economia giapponese no 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 perché non sei mai rialzista di dollaro però sono rialzista di dollaro e l'economia giapponese è in difficoltà quindi secondo me qualcosa dovrà essere fatto quello che potremmo vedere sono due cose secondo me un rapporto rischio rendimento estremamente favorevole con un ordine long dal livello di 100 magari anche qualcosina sotto per andare a sfruttare queste quattro figure a rialzo si potrebbe fare io mi aspetto un movimento di questo tipo nel medio termine mi aspetto un ritorno intorno a quest'area qui intorno all'area di appena sotto 100 un rimbalzo in quest'area una rottura lieve un ritorno su queste trendline e una ripartenza estremamente forte quindi io vedo un dollaro più forte con rialzo dei tassi ricordiamoci una cosa che lo yen si è apprezzato ma le borse non sono scese o meglio la correlazione col dollaro yen dovrebbe essere fatta col dollaro con l'SP500 quindi non è vero che si compra yen sulla paura perché l'SP500 non è assolutamente sceso quindi qualcuno sbaglia o il dollaro yen o l'SP500 in questa fase io ritengo che lo yen si sia già deprezzato in maniera significativa e quindi provare delle operazioni long con 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 dei con dei degli stop molto molto stretti può starci perché abbiamo dei rapporti rischio rendimento interessanti anche la stagionalità Nicola dice che questo questo cross è analizzato molto bene nel Roma Forecaster Report bene bene e mi ha scritto insomma io sono d'accordo con la visione che è data appunto sul su questo diciamo su questo strumento appunto da parte del Roma Forecaster Report che ovviamente non vi posso far vedere perché perché appunto sono sono diciamo è per chi appunto l'ho acquistato allora Fabio dammi qualche input in più tu mi dici ma secondo voi non c'è un test spalle rialzista su che time frame dobbiamo guardare su che time frame dobbiamo guardare Fabio aiutaci dove lo vedi un test spalle rialzista io se dovessi guardare adesso vedrei più io vedrei un test spalle ribassista è l'ultima figura non rialzista almeno qua sul giornaliero sì io diciamo sono solito vedere questo come figura di inversione quindi quello corretto andrebbe fatto cioè dovrebbe essere così per dar luogo a un movimento rialzo in realtà quello che succede molto spesso è è che comunque sono figure importanti queste che si vedono la verità è che secondo me qui io qua l'unica cosa che ci vedo che è certo che se chiedeste a un bambino mi dice esattamente la stessa cosa è che c'è un trend a ribasso quindi io che mi voglio posizionare a rialzo sbaglio chi è alle prime armi e perché uno vuole essere la persona più figa del mondo e collocarsi a comprare il minimo in un trend ribassista sull'inversione di trend visto che questo è il classico errore che poi ci porta a peggiorare le performance detto questo a me questo cross piace tantissimo e l'idea di poterlo domare mi mi esalta quindi io devo dire la verità che io un long da appena sotto 199-80 probabilmente lo farò però non ve lo metterò nei segnali operativi perché è un'operazione sicuramente con un rischio superiore quindi quindi appunto non cerchiamo di evitare insomma di esporvi a rischi eccessivi andando contro trend poi nel frattempo quindi adesso Marco dobbiamo vedere delle cose legate ai segnali operativi Marco ci dice che è long da 99-70 dove c'era un'importante resistenza evoluta esatto è corretto è corretto è corretto bravissimo bravissimo Giovanni ci chiede il forecaster cosa ci consiglia io nel frattempo questo te lo spiego te lo dice Giovanni te lo dice te lo dice Marco domani alla sessione di Marco appunto delle ore 20 che dura due ore rotte quindi ve li vedete tutti tra l'altro un'altra domanda Marco sempre per te dicono sul forecaster non c'è Audi Yen tu riesci a fare diciamo le previsioni sul forecaster andando a mettere assieme più valute sì lo possiamo fare ok sì sì allora una delle cose che insegno al corso tra l'altro è stata una di quelle operazioni è l'operazione praticamente migliore che ho fatto durante l'anno perché se l'abbiamo qua ho preso quel famoso GBP Audi io l'avevo fatto sul GBP Audi con quella tecnica delle correlazioni io l'avevo preso quasi 10 figure una cosa così esatto esatto mi ricordo mi ricordo e poi avevamo fatto questa qui proprio su Audi Yen come ci diceva appunto Enzo che siamo entrati appunto a 78 e 98 allora quindi Enzo per te appunto che mi ci chiedi di queste cose non lo perdere l'evento di Marco di domani alle ore 20 perché poi tra l'altro ci sarà anche la registrazione perché lui proprio ti spiega come andare a fare proprio le migliori diciamo le migliori come mettere insieme appunto i vari studi sulla stagionalità allora io vi voglio dare un po' di indicazioni sulle operazioni che abbiamo aperto perché non tutto quello che abbiamo mi piace allora platinum e gold c'è l'articolo lo trovate qua chissà quante donne abbiamo collegate forza vediamo Francesca tu che sei collegata vale di più l'oro o l'argento o il platino vediamo tutte le donne collegate vediamo chi risponde prima vediamo forza ecco Fabrizia che saluto tra l'altro appunto Fabrizia un carosissimo saluto guarda Fabrizia da donna ci dice allora tutte le donne quindi Francesca Fabrizia e tutte le altre dicono che vale di più il platino no non è vero non è vero quindi se in questo momento il vostro compagno vi fa un regalo una collana un bracciale in platino lo ha pagato meno di un bracciale in oro perché perché guardate questa è la quotazione questa che vedete andatelo a vedere l'articolo si chiama il trade migliore dell'anno chiedilo alla tua compagna storicamente il platino ha sempre avuto un valore maggiore rispetto all'oro in questa particolare fase di mercato abbiamo che il platino quota meno dell'oro e se andiamo a vedere proprio sulla piattaforma la quotazione del platino per oncia è 1107 mentre la quotazione dell'oro è 1339 questo cosa vuol dire che vendendo oro e comprando platino se il platino dovesse tornare a apprezzare meglio dell'oro quindi questo grafico dovesse tornare nuovamente qua sopra si farebbe un discreto profitto quindi se siete convinte donne che il il platino valga più dell'oro in questo momento comprate platino a un prezzo migliore rispetto all'oro quindi questo secondo me è un bel trade e è tornato abbastanza indietro rispetto appunto ai livelli ai quali eravamo entrati precedentemente quindi in questo caso lo ricomprate questo spread piuttosto bene che è uno spread che io sono dell'idea che valga la pena appunto ottenerlo quindi se non lo avete fatto Roberto dice che così lo faccio litigare con la sua compagna no no quindi tutti quelli che chiedono se lo possono fare sì secondo me si può fare tranquillamente ora perché i prezzi sono sono ottimi e quindi gold e platino long di platino appunto dovete pesarli correttamente se fate i mini sono 24 mini di platino o 12 e 10 di gold sempre da 1 euro per punto questa è la proporzione proprio che potete fare quanti ne volete e questo secondo me è un bellissimo trade tu Marco come lo vedi ti piace? la tua fidanzata cosa dice? gliel'hai chiesto se vale di più l'oro o il platino? no sinceramente sinceramente no chiedi sono un grande eh quando rientrare io lo chiederò adesso non c'è ancora non era ancora rientrata che poi dopo va che ti chiede dopo ti chiede di comprargli una collana eh Marco quindi vabbè eh ma dopo sono cavoli vostri perché vi chiede l'aumento di stipendio no vabbè però la allora entro ci dice se comprassi solo platino avrebbe senso ma tendenzialmente no perché questo proprio va è un'operazione che tende a sfruttare quella che è una particolare inefficienza del mercato noi non sappiamo ehm di di questa di questa cosa quindi eh quindi in realtà dico la verità la se dovete fare l'operazione fate lo spread stavo leggendo adesso si sono scatenate tutte le donne rispondo ehm rispondo a a Scilla ehm Scilla dice guarda che nei negozi non non ci sentono su questa cosa e no dovresti andare dovresti fargli vedere il grafico e l'articolo nostro e e vedrai che anche le gioiellerie insomma in questo momento si stanno approvvigionando probabilmente di di platine faranno delle belle proposte sul sul platino che oggi costa meno però devo dare in quel caso devo dare ragione a Scilla perché se noi dovessimo andare in gioielleria a comprare un gioiello di di platino e uno di oro non ce n'è pagheremo molto più caro quello di platino e non ne vedo il motivo se il prezzo è minore però è così boh non saprei tu quando è l'ultima volta che sei stato in una gioielleria? ehm qualche giorno fa ma veramente? ero in giro qua ero qua in giro sul lago maggiore con la fidanzata ho fatto lago maggiore lago d'orta abbiamo fatto qualche giro siccome gira sai c'è tutta quella catena di hotel bellissimi sulla a strese sul lago maggiore lì un po' di grano gira qua dove gira il grano le gioiellerie non mancano ho visto un po' di prezzi e non c'è niente da fare il gioiello in platino costa sempre di più la spiegazione ce la dà Massimo sapete cosa dice Massimo? perché Massimo dice i negozi hanno comprato il platino quando costava di più e anche Scilla dice si succede perché il mercato sente con effetto e ritardato queste modifiche quindi quindi insomma questa è un po' la cosa bene comunque continuiamo a mantenerlo monitorato bene andiamo avanti perché ci sono altre cose da vedere allora abbiamo questo long su NZDUSD che non non mi piace per niente quindi dico la verità è entrato questo pendente già che Luca è in vacanza io su NZDUSD tu come sei posizionato NZD lo vedi a rialzo o a ribasso? su NZD USD attualmente non sono posizionato però pensando un po' così in linea generale poi magari domani sera lo faremo io lo vedo a ribasso esatto quindi noi abbiamo dato un segnale operativo al rialzo siamo in profitto secondo me dobbiamo portarlo a casa perché secondo me questo segnale operativo onestamente non mi piace quindi se ce l'avete ancora portate a casa perché è meglio mantenere quella piccola esposizione che avevamo aperto durante l'ultimo trading live a ribasso quindi manterrei quella e la posizione appunto a rialzo non non mi piace dunque andiamo avanti invece altre posizioni euro dollaro vabbè quello aperto oggi siano lì nzd gbp usd al rialzo anche in questo caso secondo me dobbiamo gestire la posizione al meglio quindi abbiamo dato un segnale operativo anche in questo caso su gbp usd andiamo a capire come sfruttare questa operazione allora qui abbiamo tutta una serie di griglie di ordini quindi ordini a rialzo a ribasso per cercare di sfruttare quella che potrebbe essere la volatilità secondo me qualcosina ancora potrebbe raggiungere però io non voglio rischiare di non portare a casa assolutamente tutto questo profitto che è stato fatto quindi prima cosa andiamo su un grafico a 15 minuti poi Marco ti chiedo anche la tua allora tra l'altro ora che ingresso sul segnale operativo questo spero che ce lo abbiate in tanti bello bello bellissimo questo è favoloso ecco cosa si fa adesso Marco ma allora lo stavo guardando proprio ieri questo cross perché dopo la questione Brexit l'ho lasciato un po' andare l'ho tralasciato poi in realtà mi sono accorto che ho fatto una stupidata perché se tu mi metti un grafico orario la time frame orario e poi mi apri il mi apri il forecaster mi fanno previsione sul forecaster ti do io le ti do io i dati GBPUSD facciamolo da prima della Brexit poco prima più o meno dove c'è la candela della Brexit poco prima giugno ok esatto va bene mi metti un'istoria a 7 anni ok ok se tu dovessi ridurlo e compararlo con un con il grafico reale è troppo diciamo che non sono capaci di far se mica sono bravo come te ammannaggia dov'è dov'è che lo prendo questo ti faccio sgobbare un po' cos'è questo questo pezzo dove dove siamo riduci un po' riduci un po' riduci un po' ecco esatto ma come sei bravo dai stai imparando e quindi allora la candela della Brexit non la vediamo ancora lì sul grafico orario dovresti stringere un po' eccolo qua eccola lì se noi guardiamo vedi che guarda l'andamento dopo la candela della Brexit allora ok quindi si scende si risale si fa si va un po' in lateralità e poi si scende di nuovo guarda cosa c'è sul forecaster questa ridiscesa qua guardi si scende si risale si va in lateralità poi si riscende di nuovo e si tende a salire adesso non ricordo così a memoria come era dettagliatamente fatta la previsione però proprio nei giorni scorsi guardando ho detto sono stato stupido perché dopo dopo la candela della Brexit che guarda lo riconosco adesso praticamente dove vedi la salita lì proprio all'inizio del grafico del forecaster col mouse sali 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 vai ai massimi ecco lì quel primo ribasso il primo ribasso lì no a sinistra vai ancora a sinistra sinistra no no ancora nel primo rialzo nel primo trend rialzista che c'era ma qua il primo trattore ancora più indietro ok qua ecco lì spostati ecco a destra ancora un po' a destra il prossimo minimo da lì ok quello esatto quello è il minimo che corrisponde al minimo della candela della Brexit ok e guarda come è stato il movimento si sale un po' si scende si risale si va in lateralità poi si scende di nuovo e adesso si sta risalendo c'è una traslazione temporale perché vediamo la linea del presente è un po' in una posizione diversa però l'andamento l'andamento è quello ieri quando mi sono accorto ho detto cavolo ho fatto una stupidata dovevo rientrare prima a seguire questo cross perché qualcosa si poteva prendere però chiaramente con la Brexit di mezzo un evento così importante magari se va tutto bene si fai in fretta a fare i soldi ma se le cose non vanno bene si fai in fretta magari anche a a uccidere il conto quindi non possiamo biasimarci troppo quindi Marco dobbiamo mettere lo stop però perché le persone dove lo mettiamo lo stop su questa operazione qua io direi allora ma guarda secondo me allora dove lo spostiamo questo stop ma se io fossi in voi sai che cosa farei Enrico io mi sarei avrei già chiuso questo long mi sarei già riposizionato short perché secondo me questo cross è destinato ad andare a farsi un giro tipo sotto l'1 e anche sotto l'1 e 28 forse secondo me ok non sto parlando di operatività di brevissimo periodo nei prossimi mesi secondo me allora aspetta un attimo GBP USD noi abbiamo lo short a 1.32 siamo a 1.31 quindi più o meno ci siamo no siamo a 70 pip no come ordine pendente allora io direi di fare una cosa Marco secondo me un'idea intelligente potrebbe essere questa innanzitutto questo questo ordine qua io metterei lo stop almeno in area 31 e 10 e ti spiego perché perché intanto portiamo a casa un po' di roba giusto se quindi qui ci portiamo a casa un bel po' di profitto e non è male visto che l'esposizione è è a ribasso poi se va giù lo vabbè prendiamo lo stop ma abbiamo fatto un discreto profitto e poi eventualmente ci riposizioniamo al rialzo se lo perdiamo pace però questo è uno strumento estremamente particoloso dove dobbiamo evitare diciamo di fare questi diciamo di prendere troppi rischi allora rispondo a qualche domanda allora c'è Marco che dice eh ma sopra 1.32 cambia il trend da ribassista a rialzista no Marco io non sono d'accordo cioè nel senso secondo me se il mercato è già salito tanto è sbagliato posizionarsi a rialzo la rottura del livello di 1.32 aspetta che vada allora ancora più in alto e poi ti riposizioni quando ritraccia però è peccato comprare un mercato quando già sta salendo quindi se sta salendo aspetti il ritracciamento e poi lo compri non lo compri se rompe un determinato livello quel tipo di operatività a me onestamente non piace però ovviamente diciamo noi facci degli articoli magari sul sito su questo tipo di diciamo di trading sulle rotture perché io ho un tipo di trading che ritengo poco profittevole dal punto di vista dei rapporti rischio rendimento cioè se una cosa ha già fatto tutta questa strada per andare a recuperare questo piccolo pezzo di strada rischio proprio un ritracciamento in faccia e la percentuale di profitto secondo me si abbassa sotto il 50% del trade quindi in realtà spesso si prendono le musate perché il mercato va lo rompe un livello di resistenza o quello che è per un attimo e poi ritraccia in maniera violenta guarda il caso più eclatante ce l'hai oggi sul Fuzzimib guarda qua se noi andiamo a prendere l'indice italiano Italy 40 guardate proprio che cosa succede sul grafico orario oggi tutti quelli che vedono questa cosa qua vedono ma cavolo ma ha rotto l'ultima candela va su va su va su due candele verdi a rialzo sai quanta gente si è messa long qua perché ha detto ma ha rotto 16.500 ma va su e guarda che tappate sui denti che si sono presi le due ore successive questo è proprio il classico caso scuola che tutti quelli che si sono messi qua va a chiudere questo movimento va a minimo a 16.650 per fare 100 punti da 16.550 a 16.650 ne hanno presi sul muso per il momento 150 bene io il tempo a nostra disposizione oggi è finito mi raccomando io vi ricordo io vi ricordo appunto gli appuntamenti in programma quindi andiamo insieme sul calendario 20 Forecaster più Sherry System domani alle ore 20 con Marco Dita con tutte le previsioni con il software Forecaster è la persona che lo sa utilizzare benissimo meglio insomma insieme a il gruppo di Roma con il Forecaster Roma Report poi abbiamo trading sulle azioni mercoledì il servizio del mitico Marco Carmentano dalle ore 16 anche in questo caso se avete domande richieste o curiosità scrivete una mail a info chiocciola investire punto viz il trading live lo faccio io che è giovedì dalle 4 alle 6 anche in questo caso potete partecipare numerosi settembre corso di Riccardo che avrete sul nostro sito perché ha fatto tantissimi articoli insomma quindi lo potete cercare Riccardo Zago quindi un corso bellissimo e se siete della zona di Firenze venerdì 16 settembre se andate sul sito tradingdalvivo.com avrete la possibilità appunto di partecipare a questo evento che faremo appunto a Firenze dobbiamo ancora definire l'hotel però sarà il 16 di settembre insomma ci sarò io ci sarà Luca ci sarà tutto lo staff di CMC Markets quindi insomma una giornata aperta a tutti gratuita alla quale appunto vi richiediamo un'iscrizione obbligatoria buona serata Marco saluti a tutte le persone sì sì buona serata a tutti e naturalmente ci vediamo domani con la sessione Forecaster Share System Live che domani entriamo veramente nel vivo dell'operatività riprendiamo alla grande un saluto a tutti e buon trading buon trading a tutti